Storica guerra di neve a Baghdad Non si verificava da un sacco di anni, più di dieci per la precisione in Iraq a Baghdad Il via d'avvenimento ha creato un po' di stupore tra i residenti Per una mattinata inusuale la guerra a Baghdad è stata soltanto una guerra di neve Tra persone occupate soltanto a divertirsi e a godere di quella straordinaria sorpresa a livello meteorologico La situazione negli ultimi tempi in Iraq è esplosa in piena regola tra guerre guerriglie, guerrotte viarie Proteste antigovernative e tensioni con gli Stati Uniti America all'omicidio del generale Soleimani all'aeroporto di Baghdad Più di 500 le persone sono state fatte fuori come la Commissione arachiana ci informa A te di la politonista è stata roba la neve che ha ricoperto le tende dei protestanti in piazza Tahir Il centro del movimento antigovernativo L'ultima nevicata risale all'anno, ripeto, 2008 Più da due decenni, più da dieci anni non si verificava una nevicata Grazie a tutti carissimi utenti di Youtube, il video termina qua Iscrivetevi, commentate e al prossimo video da Leandro, un narratore italiano